Graziano Mesina non è stato soltanto il re del Supramonte, è stato anche il re delle evasioni. Nove evasioni riuscite e molti tentativi falliti. Ha cominciato a scappare fin da ragazzo, a 18 anni, dal commissariato di Orgosolo. Poi è fuggito da Macomer, Nuoro, Viterbo, Spoleto, Sassari, Lecce. A volte da solo, a volte in compagnia e persino con le manette ai polsi. L'ultima fuga nel 1985 è singolare. Il giudice gli concede un giorno di permesso e lui sparisce. Quando viene preso, una settimana dopo, è in compagnia di una donna, Valeria Fusè, una delle molte donne, italiane e straniere, che gli scrivevano negli anni del Supramonte, gli hanno scritto in carcere e che talvolta lui riesce ad incontrare. Una fuga, l'ultima, che non piace per nulla alla vecchia madre di Mesina. Io voglio dire di tornare subito, a posto. È questo, se no io non la tento più, quindi sono al corso. Paolo Marco. Avvocato, volevo chiedere questo. Tutte queste fughe dimostrano che Mesina in fondo non si è mai arreso, cioè che... La questione è questa. Lei è da tanti anni ormai l'avvocato di Mesina. Da quando l'è avvocato? È scappato qualche volta? No, da quando l'ho difeso io non è più scappato la carcere. E se capitasse l'occasione, pensa che lo rifarebbe? Io penso di sì. Io penso di sì, perché addirittura quando era detenuta a Cagliari, si raccontava così, lui l'avrebbe anche confermato, anzi l'ha anche confermato, che ogni mattina, ogni giorno faceva degli esercizi fisici proprio per tenersi in forma. Per evadere. Per evadere. Caterina, volevi dire qualcosa? No, no, è straordinario. Un mito è stato questo uomo. È stato un mito. Ma lei che relazione ha avuto? Sardegna, lei lo capisce, specialmente Sardegna, ecco perché era rispettato e aveva un grosso ascendente, specialmente sui giovani, del nuorese in particolare. Ma lui ha sempre reagito a una situazione o ha anche fatto... Diciamo che ha iniziato con la reazione, questo sì, certamente. Poi è chiaro che avrà avuto altri moventi, questo non lo si può dire. Per esempio, il processo di Cagliari, in quel processo ad imputato dell'omicidio di un imprenditore cagliaritano e di associazione per delinquere. Ecco, e lì bisogna vedere appunto quale sia stato il movente che lo ha portato a Cagliari dal nuorese perché è stato arrestato proprio in quell'occasione. Sentiamo Mesina come parla delle sue evasioni. Parliamo, signor Mesina, delle sue evasioni. Lei è evaso tante volte con una grande facilità. Come riusciva? No, non facilità. No, no. No, per come l'ha fatto sembra una cosa facile, è difficilissimo evadere. No, le evasioni non sono state mai facili. Sono facili quando uno è libero in una colonia agricola. Certo. Così è libero di andarsi. Ma quando si tratta che è chiuso in carcere non credo che siano facili le evasioni. Né per me né per nessun altro. Diciamo che avevo tutto il tempo di pensare a quello. E anche come venivo trattato, venivo sballottato da un carcere all'altro e da un isolamento all'altro. Sì. E allora più che altro sembrava un sollecito a evadere, quanto così. Torniamo a sua madre. È vero che sua madre era contraria quando lei fuggiva? Questo è esatto. Sempre è stata contraria. Lei preferiva sua madre? Come si chiamava sua madre? Caterina. Caterina preferiva che lei rimanesse in carcere? Sì, perché credeva nella giustizia. A modo suo credeva nella giustizia. Pensava che la giustizia avesse fatto il suo corso giusto. Avesse fatto le cose giusto. Quell'andare degli anni però si è resa conto che non era così. Capito? Anche se non me l'ha fatto mai capire. A me non me l'ha fatto mai capire. Ah, non l'ha fatto mai capire? No, per lei era sempre... Giusto che le restassi in carcere? Certo, non disobbedire. Insomma... Siccome sia, lei ha avuto molto successo con le donne. Con le donne? È vero. Ma non me ne sono mai accorto. So che riceveva molte lettere, le riceve forse ancora. Ma non rispondeva a nessuno. Ah, non rispondeva a nessuno? E così non mi scrivo più almeno. Adesso continuano a scrivere, no? No, qualche dura, così, ma no. Ma è vero che addirittura alcune donne volevano un figlio da lei? Ma quelle quante ero latitante. Sì. Eh, questo è vero. Ma ero io che non lo volevo da loro. Ma in futuro avrebbe avuto questo figlio. No, no. Una volta che sapevano che il padre era in giro per le montagne, che le davano la caccia come un cinghiane. Ma secondo lei perché volevano un figlio da lei? Che cosa le portavano? Bisogna domandarlo a queste donne, perché io non riuscivo a capirlo mica. Però tra queste donne Valeria Fusè è stata una donna speciale per lei. Beh, è una donna che le ho voluto bene, ma non è quello che si pensa, o quello che si è pensato. Capito? Ma è vero che lei doveva tornare in carcere perché aveva un permesso e non è tornato per restare con Valeria? Non è esatto. No? Non è esatto. È diversa la cosa. Quando io l'ho chiamata a casa sua, che lei è scesa giù, che stavamo parlando, sono arrivati i carabini alla casa della Valeria. E noi eravamo giù, parlando. A quel punto là sono dovuto andare via. Lei mi è venuta presso. Non mi ero potuta levare. Ha detto non vengo con te. Va bene. E lei che rapporto? Io non potevo stare lì a perdere tempo perché mi avrebbero fermato lì. Certo. E adesso che rapporti ha con Valeria? Noi siamo rimasti sempre in buoni rapporti. Quando andavo in licenza andavo a casa loro, andavo da Navarro e tutto quanto. Un bel rapporto di ammettizio con lei e con la famiglia. Trett'anni fa lei era considerato un eroe per i ragazzi di Orgosolo, è vero? Trett'anni fa. Guarda, io non vorrei mai essere considerato un eroe. Nen dai ragazzi di Orgosolo e nenn da altri. Perché sono disgrazie che capitano. Non cerchiamo attenuandolo. Sto cercando di trovare. Che può capitare a chiunque. Mi sono trovato in un ingranaggio della giustizia per diversi motivi e per diversi avviamenti. Mi sono trovato ricercato, evaso. Lei riconosce di aver commesso qualche errore nella vita? Ma io errori ne ho commesso e li riconosco. E gli altri che li hanno commessi nei miei confronti non li hanno mai riconosciuti purtroppo. Non ne hanno ottenuto mai conto. Altrimenti non salirei qua in carcere. A quest'ora. Avrei fatto la mia carcerazione, ma diversa. Cioè, riconosci di aver commesso qualche delitto, è chiaro. Certo. E ho reagito anche per diverse ingiustizie subite. Che non sto nemmeno più a argomentarle. Voglio chiudere col passato e guardare al presente. Certo. Daniela. Avvocato, lei ha detto, e il suo legale è legale di Mesina da 30 anni, ha detto che si instaura un rapporto di confidenza anche per quanto riguarda i fatti che sono poi alla base dei processi. Ma si è instaurato anche un rapporto di confidenza personale. Per esempio, Mesina, le ha mai parlato di questa signora Valeria? Guardi, non siamo mai arrivati a queste confidenze, a questi discorsi. Io posso dire questo, che tutte le volte che c'era udienza nel Palazzo di Cagliari, nell'aula delle udienze del processo del Mesina, si riempiva l'aula di ragazze. Si riempiva perché? Perché venivano tutte per vedere, per sentire e poi si notava che qualcuna faceva determinati avanzi, sicuramente. Soltanto che le faceva a distanza, perché è comprensibile che il pubblico si trova in un posto dell'aula, mentre Mesina era nella gabbia, sistematicamente nella gabbia, scortato sistematicamente da un carabiniere più grosso di lui almeno due volte, minimo due volte. Mi scusi, ma sembrava infastidito, compiaciuto. Compiaciuto, decisamente compiaciuto. Una cantante sarda, per esempio, gli ha dedicato più canzoni e per alcune canzoni sembra che proprio Mesina sia stato il poeta. Addirittura. Allora, abbiamo già detto, stavamo parlando adesso della fama di Mesina, su di lui si scrivano articoli, libri, come dice l'avvocato Canzoni. Fu anche realizzato un film, Daniela, un film per la regia di Carlo Lizzani, ispirato a un libro di Giuseppe Fiori, che è scomparso in questi giorni, un grande giornalista. Il titolo era Barbagia, la società del malessere. Il protagonista era Terence Hill, accanto a lui Don Bachi. Vediamo come ne parlava Terence Hill. Qui a Sassoli la gente mi ferma e mi dice, ah, ma lei come assomiglia a Graziano? Il viso le assomiglia molto. Cioè, però, Graziano era molto più basso, era più piccolo di lei. Non che non ci preoccupiamo dei lati fisici esteriori, anzi, i costumi vengono curati al massimo. Non so, io mi pettino come si pettina a Graziano. Cerco di avere certe stesse movenze, la stessa agilità. Tutte le mattine faccio mezz'ora di ginnastica per inventare le scena, per avere questa agilità felina, direi. Ma tutte queste cose non sono quelle che ci preoccupano fondamentalmente. Quello che ci preoccupa e su cui abbiamo messo l'attenzione, Lizzani e Dio, è sul suo modo di pensare, sul suo modo di sentire, insomma, sulla sua psicologia. Avvocato, mentre andavi in onda il filmato, mi ha detto una cosa, dica. Sì, proprio per questo film, non ebbe l'embolumento completo. Non fu pagato? Non ebbe l'embolumento completo, non fu pagato completamente e mi diede in carico di scrivere per... Per essere pagato? Per essere pagato. Non fu pagato? Non fu pagato. Inizi degli anni 90, Mesina in carcere da molti anni, è un detenuto modello ed ottiene il regolare permesso per visitare la madre e i parenti. Succede però qualcosa in Sardegna, viene sequestrato un bambino, Farouk Kassan, ricordiamo tutti la storia, e il sequestro si intreccia con la vita di Mesina. Vediamo come. Dopo anni di silenzio, Mesina torna a far parlare di sé nel 1992, in occasione del rapimento del piccolo Farouk Kassan. Mesina, assolutamente estraneo alla vicenda, viene contattato da qualcuno che gli chiede di fare da intermediario con la famiglia del rapito. Dopo qualche esitazione, Mesina accetta, secondo la sua versione, con il tacito assenso delle autorità. La sera del 10 luglio è lo stesso Mesina ad avvertire il Tg1 sull'avvenuta liberazione del bambino. Da quel momento esplodono le polemiche e le contestazioni. Sono tante le domande rimaste senza risposta. È stato pagato un riscatto? I servizi segreti hanno messo a disposizione dei soldi? I soldi sono andati tutti ai rapitori? Qualche mese dopo, in casa di Mesina, vengono trovate delle armi, della cui presenza lui si protesta assolutamente ignaro. Per Mesina si aprono nuovamente le porte del carcere. Avvocato Assa, qual è la sua tesi difensiva in ordine a questo rapimento Kassan?